Ieri è giunta la decisione del Tribunale di Chieti sul futuro di teatro e servizi, ufficializzando il fallimento della partecipata del Comune con la nomina del curatore per le operazioni conseguenti. Preoccupati sindacati per il posto dei 25 lavoratori. Ma cosa comporta il fallimento di teatro e servizi? Lo abbiamo chiesto a Marco Angelucci, segretario provinciale Will FPL di Chieti, che spiega le ripercussioni che tale situazione potrebbero avere sul territorio. Il fallimento di teatro e servizi comporta nell'immediato il blocco della riscossione nei confronti del Comune di Chieti. Per meglio spiegarmi, la teatro e servizi era l'ente del Comune di Chieti, atto alla riscossione delle tasse proprio sul territorio comunale. Questo fallimento fa sì che ci sia il blocco di questa riscossione che potrebbe creare comunque ulteriori problemi al già delicato assetto del Comune di Chieti. Non solo perché c'è in ballo anche il futuro dei lavoratori della teatro e servizi. Ci sono tutta una serie di tipologie contrattuali all'interno di teatro e servizi, fra contratti a tempo indeterminato, contratti a tempo determinato e somministrati. Qualche tempo fa fu firmata un accordo sindacale con delle clausole di salvaguardia e cercheremo di far rispettare quell'accordo. È stata fatta una richiesta urgente d'incontro con il Comune di Chieti proprio per capire e definire la situazione del personale e della riscossione. Qual è il futuro a breve? Il futuro a breve, se la politica teatina non si muoverà a tempo, sarà un blocco totale della riscossione dei tributi. In sostanza per Angelucci le cose si mettono male? Assolutamente sì, si mettono male per il Comune di Chieti, ma soprattutto si mettono male per i dipendenti che oggi sono appesi ad un filo. Noi ad oggi l'azione che abbiamo intrapreso nel richiedere urgentemente un incontro con il Comune di Chieti è quella di capire che cosa ha intenzione di fare prima il Comune di Chieti perché d'altronde non avendo altre situazioni in mano non possiamo ad oggi che aspettare le decisioni della politica e in base a quelle decisioni intervenire.